Giulia Bertollini, Superguida TV Allora, Ivan, in questa stagione ai ragazzi viene concessa una seconda possibilità innanzitutto ti chiedo, c'è la speranza davvero di una redenzione? Cioè tu ci credi? E qual è stata la scena tecnicamente più difficile da realizzare? Allora, questa sì, è la stagione della speranza sarà una speranza, come sempre, in mare fuori che comprenderà il suo grado di sofferenza ma in realtà io credo che questa stagione, come nessuna delle stagioni ci farà sperare per questi ragazzi crescere, maturare, significa anche in qualche modo confrontarsi con l'idea della separazione e questi ragazzi si devono piano piano emancipare allontanare da questo luogo che è stata una specie di seconda casa per loro e anche per noi e quindi li vedremo soffrire per questo faticare per questo ma noi faremo il tifo per loro sarà molto toccante io non posso anticiparvi troppo ma in questa stagione ci sono i momenti per me più toccanti di tutta la serie e la seconda domanda era? Quale è stata la scena tecnicamente più difficile da girare? Quale è stata la scena? Aia! Mi viene in mente una in particolare? Dal punto di vista del mio lavoro ho una scena nei bagni è stata... non lo posso dire però una scena dove dal punto di vista del mio lavoro è stato proprio difficile accettare quella sensazione lì ce l'avevo qua questa sensazione e non riuscivo ad arrivare qua e non riuscivo a capire perché poi dopo ci sono riuscito perché Ivan è una persona molto empatica il set ci ha cresciuto fondamentalmente quindi era tutto con generale però... Per me quella dell'ufficio quella della terza puntata Ah beh certo ok allora mettiamola così questa è stata una serie come tutte le stagioni che io ho diretto complessa e io ho cercato di complicarmi ulteriormente la vita perché a me piace non interrompere tanto il flusso delle emozioni e quindi cercare di far sì che loro possano recitare tutta la scena in un unico flusso questo ovviamente a volte significa fare movimenti di macchina articolati che devono poi andare senza nessun errore a raccontare ciò che loro stanno dando in quello specifico momento per fortuna loro sono sempre stati molto generosi dico loro per dire tutto il cast ma ci sono delle scene dove i personaggi ricevono dei colpi durissimi e il riuscire a raccontarla con tanta empatia e tanta vicinanza e riuscire a essere sempre nel punto giusto mentre loro davano il meglio è stata la vera sfida più che chissà quali movimenti di macchina che pure ci saranno ma quelli magari riguardano di più le scene d'azione l'emozione è stato ciò che più mi interessava in questa stagione ancora di più della terza stagione che già era abbastanza emozionante almeno per me e io con mia grande sorpresa mi sono trovato ad avere questa sfida che era fare una quarta stagione all'altezza almeno della terza che era l'altra stagione che avevo diretto interamente e io sono molto felice del risultato quindi io penso che questa quarta stagione non deluderà ovviamente è una stagione diversa è nuova si proietta in avanti ma lo fa con un calore tutto suo Ecco Massimiliano, Maria volevo chiedervi siete un Romeo e Giulietta moderni il fatto che i fan in qualche modo abbiano cercato anche una corrispondenza nella vita reale di questo sentimento vi ha infastidito in qualche modo? No, perché tanto sappiamo la verità che siamo due colleghi siamo amici Massimiliano è un grandissimo professionista mi ha sempre messo a mio agio e le voglio un bene esagerato Assolutamente ovviamente comprendo questa tendenza la comprendo dal punto di vista emotivo anche del pubblico nel momento in cui tu vai a raccontare una storia che segue la linea di un classico quindi vai a toccare un tema universale e provi a dare speranza su quel tema è ovvio che quella gente proietta la speranza su altre cose però secondo me è una cosa che contraddistingue noi due come interpreti ma tutto il resto del cast è proprio il fatto che per portare dei personaggi così c'è bisogno di avere i piedi molto radicati a terra nelle proprie vite soprattutto quando poi c'è un successo che succede in questo modo quindi mi rifaccio alle parole di Maria per quanto riguarda noi ma per quanto riguarda tutti gli altri interpreti c'è questo professionismo e questa passione che noi ci mettiamo e questa preparazione ci permette di essere concentrati solo ed esclusivamente sul lavoro grazie mille prego grazie ciao grazie mille